Quasi quattro decenni dedicati al tartufo bianco delle colline senesi che dividono il Chianti dalla Val d'Orcia. A San Giovanni d'Asso quest'anno l'appuntamento è nei weekend 12 e 13 e 19 e 20 novembre per una festa ricca di proposte tra paesaggi inconsueti della campagna senese e prodotti tipici del territorio. Noi abbiamo questo riconoscimento del distretto rurale di Montalcino e saranno i principi tutti i prodotti del territorio. La collaborazione sarà con il consorzio del Brunello, con il consorzio dell'Orcia e ovviamente il principe sarà il tartufo bianco. Noi siamo stati i primi a dire che facciamo la festa solamente con i tartufi che troviamo in zona, quindi da noi non si trovano commercianti. Sono solamente i nostri tartufai, che siamo circa 240 iscritti, che portiamo i nostri tartufi che troviamo nel nostro terreno di tutta la provincia di Siena. Siamo felicissimi, infatti siamo ripartiti a pieno regime, ci siamo concentrati soprattutto su quelle che sono la valorizzazione stessa del territorio, la valorizzazione del prodotto tartufo, portandola all'interno di due bellissime cene degustazioni e cene di gala che saranno fatte nelle sere del sabato e porteranno delle grandissime innovazioni unite alla tradizione del territorio.